vetrate scorrevoli per balconi sono comode? ciao sono william bisacchi di infissi bisacchi dal 1973 ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema bisacchi oggi voglio rispondere a questa domanda sulle vetrate scorrevoli per balconi perché spesso c'è quando mi viene un cliente mi dice sì le voglio scorrevoli perché sono più comode non mi danno fastidio leante dentro e sono facili da pulire ecco qui c'è qualcosa che in realtà non è vero perché una vetrata per un balcone quindi presumo che sia almeno un piano primo piano secondo o anche superiore è una vetrata che non posso accedere dall'esterno quindi non posso pulire i vetri dell'esterno è una vetrata scorrevole quando un vetro mi scorre sopra l'altro uno dei due vetri non riuscirò mai pulirò fino in fondo quindi avrò una zona grigia tra virgolette che non riuscirò mai pulire dall'interno posso pulire quello che voglio anche se le faccio entrambi nei premi e privili sarà un punto dove questa vetrata e rimarrà sporca e mi toccherà per forza chiamare una impresa di pulizie magari dall'esterno magari con un cestello per pulire questa vetrata proprio per questo motivo che molte cose non si sanno e chi ti deve vendere vetrate perché ha interessi appunto nel vendete non te lo vuole dire ho creato un sistema di consulenza con sistema bisacchi dove posso aiutare tutte quelle persone in giro per italia dove non posso servire direttamente a consigliare la soluzione migliore per l'acquisto dei nuovi infissi per la sua casa se vuoi saperne di più vai su www.bloguisacchi.it e richiedi la tua consulenza ma fai presto perché ci sono solo 4 posti ogni settimana al sabato pomeriggio ciao e al prossimo video